Aldo Torchio, come si sposa la vostra strategia aziendale per YouTube? Allora, volevo iniziare dandovi un quadro delle nostre logiche strategiche su internet in generale. Noi non usiamo più banner, abbiamo deciso di non usare più banner nelle campagne di disabilità, ma crediamo che i video siano molto più emozionali, e questo è un primo passo forte della nostra strategia. Secondo, abbiamo deciso di non usare più formati invasivi. Terzo punto, abbiamo deciso di non usare più i KPI classici tradizionali, KPI e KPI. Noi usiamo visualizzazioni volontarie, quante volte l'utente rivede il nostro video, il tasso di caduta all'interno del video, commenti, like, questo significa passare una logica push a una logica pull. Abbiamo visto che tutte le logiche, noi abbiamo usato una logica di questo tipo, sono arrivati risultati incredibili. Questo per introdurre quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno a livello di format, abbiamo creato una webcom con Luca e Paolo, che sono due commessi di un improbabile negozio di tecnologia, si chiama Panetteri Maiello, poi magari vi spiegherò come mai si chiama Panetteri Maiello, che tutti i giorni dialogano con i clienti e quindi parlano di prodotti e servizi Lodafone. È una serie composta da 12 puntate, per ogni puntata si parla di prodotto e per ogni video che facciamo, che poi pubblichiamo su YouTube, abbiamo creato anche un video online a supporto relativo allo stesso prodotto. È una serie particolarmente innovativa anche per i toni e i linguaggi che usa. Vedrete a breve un video di presentazione che abbiamo usato in bianco e nero, cosa che su web è difficile a reperire per un formato di questo tipo.